ciao a tutti è il bastardo per voi per la honkyton school di torino in questa nuova lezione vi farò vedere un pochettino faremo una breve escursione sui sui sites e le forme storiche degli ukulele e alcuni ukulele che hanno definito proprio la storia dello strumento e anche quelli che hanno influenzato maggiormente la musica americana adesso tutti questi io li appoggio signorina grazie e partiamo a farveli vedere uno alla volta partiamo da questo ukulele questo è un martin 3k che all'epoca era uno dei modelli di ukulele per epoca intendo dal 915 20 in poi era uno degli ukulele più più ricercati e uno di un ukulele di alto livello fondamentalmente mettiamo vicino a lui il martin s1 questo è il modello s1 un modello nuovo l'ukulele come si è voluto fino a quando è stato alle hawaii aveva una forma più o meno simile a questo ovviamente perché martin ha ripreso quelle forme alcuni avevano la paletta più arrotondata il corpo leggermente più a 8 rispetto a questo che qua un po più stretto e qua un po più largo però fondamentalmente era simile martin cosa cosa ha fatto a partire dal 15 16 se non sbaglio i primi prototipi di ukulele martin risalgono al 1906 non vorrei dire una stupidaggine perché cose che ho letto su libri però magari la memoria mi tradisce comunque si parla di quegli anni martin ha preso l'ukulele classico e ha fatto il suo tipo di ukulele che era il famoso style o il tipo il modello 0 quello meno rifinito come vedete non ha particolari rifiniture era completamente in mogano se non sbaglio la tastiera all'epoca era in evano così come il ponticello ed era il modello più economico infatti è quello più diffuso ancora adesso vintage se ne trovano degli anni 30 ancora in buono stato ovviamente la cosa importante che martin già all'epoca era una era un'industria con cento anni di storia di produzione di chitarre quindi era già uno dei più grandi e blasonati produttori sono entrati nel mercato dell'ukulele e hanno ovviamente preso quasi quasi preso il monopolio perché poi martin stessa all'epoca costruiva ukulele che venivano marchiati per esempio per ditzion che era un altro negozio famoso in america con piccole variazioni ma era sempre martin che li produceva definendo quello che noi ci immaginiamo quando si dice la parola ukulele questo tant'è vero per esempio che se voi vi ricordate il film some like it hot che è tradotto in italiano e a qualcuno piace caldo con jack lamball walter mattow e non era walter mattow jack lamball e tony curtis scusate e marylyn morrow nella locandina di a qualcuno piace caldo c'è marylyn che suona questo ukulele completamente bianco perché chiaramente era aveva era un bezzo che doveva avere il personaggio di marylyn in quella in quella in quel film noi quando diciamo ukulele ci immaginiamo facilmente questo il martin questo era più economico l'S1 facilmente in mogano a cui seguivano lo style 3 questo è uno style 3k completamente in coa che è il legno avaiano per eccellenza le avaiano anche grandi esportatrici di legno di coa che è eccezionale per fare gli ukulele a mio avviso ed era già più rifinito vedete che ha questo questo freggio tipico che riprende la paletta tastiera in ebano tutto completamente in coa e ha il binding comincia a vedersi il binding anche centrale sulla sulla tastiera erano tutti questi fondamentalmente abbellimenti che a livello di suono non è che abbiano dato più di tanto però il coa più selezionato rispetto magari al mogano che poteva essere un po meno selezionato dello style 1 faceva venire fuori un suono già sia a livello che di volume che di timbrica qua monto le stesse corde quindi era già era già un modello che era più bello e suonava anche più forte e meglio ok e abbiamo parlato degli ukulele martin che hanno definito brevemente parlato ci sarebbe ci sono libri e libri che parlando della storia definito diciamo la forma standard per l'ukulele signorina grazie adesso se sei così gentile da passarmi i due resofonici detto questo apriamo una parentesi su un altro produttore importantissimo dell'epoca la national resofondi instruments negli anni venti due fratelli fratelli dopiera due cecoslovacchi che avevano già fatto esperimenti di violini con un sistema interno di riproduzione del suono cosiddetto resonator qua sotto qua sotto c'è un cono un cono in alluminio che appoggi in questo modo come fosse un cono di uno stereo praticamente la forma è quella ed è quello che vibra e produce il suono a differenza dello strumento acustico che fa vibrare il corpo comunque i fratelli dopiera a seguito delle richieste di tale george bishop chitarrista molto noto all'epoca che aveva il problema che tutti i chitarristi avevano negli anni venti e trenta la chitarra non si sentiva nelle orchestre con gli ottoni la batteria il banjo che aveva un volume devastante così il la chitarra stava non dico cadendo in disuso però stava sempre più rimanendo relegata a un ruolo di mera vaga atmosfera che si sentiva in lontananza durante i concerti c'era quindi la richiesta di strumenti con più volume e infatti il banjo era molto usato tanti chitarristi si spostavano a usare il banjo le orchestre di primo jazz di jazz tradizionale anche solo di popular music quella che come dicevamo evolveva diciamo dalla musica dei fratelli Schoenberger o di Irving Berlin cosa succede questi fratelli dopiera grazie all'interazione con George Bishop si inventano lo strumento rosofonico il primo strumento rosofonico è quello che vedete alle mie spalle è una chitarra è la national style o che è la mamma di questo ukulele l'ukulele national style o con spero si veda nelle riprese con tutto un abbellimento un ornamento sabbiato con figure di palme havaiane cose di questo genere una figura di un tramonte alla Hawaii si intravedono le montagne in secondo piano si intravedono un po' di cose bellissime lo stesso motivo c'è sulla chitarra style o national con questi strumenti in base al mercato letteralmente erano strumenti discretamente costosi però avevano la particolarità di essere in metallo questo in ottone per esempio questo il triolian era in acciaio e quindi strumenti che pativano pochissimo perché già le variazioni di umidità e temperatura erano molto meno invasive rispetto a uno strumento acustico tant'è vero che ci sono strumenti dagli anni venti che suonano ancora adesso in giro per il mondo e ce ne sono anche tanti perché salvo incidenti sono rimasti avevano inventato quindi uno strumento con tanto volume un bellissimo timbro facile da utilizzare girandoci perché appunto resisteva a temperature resisteva un po' a tutto era un po' caro armato e hanno inventato uno degli altri standard dell'ukulele l'ukulele resonator è questo qua ci sono produttori in giro per il mondo che ne fanno di anche più belli forse in certi casi molto più rifiniti però è ovvio che il national è sempre il national è lo strumento resofonico per per eccellenza e attenzione non è un ukulele dobro come non è un dobro questa chitarra qua dietro è uno strumento a risuonatore un resonator i dobro sono quelli che sono nati poi dopo sono strumenti con una tecnologia interna simile ma non questa che i fratelli dopiero avevano brevettato a seguito della loro scissione dalla national guitars loro erano stati furbi no cosa hanno fatto hanno fondato la national guitars avevano registrato i brevetti degli strumenti resofonici a nome national guitars quando loro hanno avuto a che dire con bishon e se ne sono andati bishon gli ha detto io i brevetti non te li cedo le licenze e li costruisco solo io e quindi loro si sono inventati un sistema simile è un po' differente che magari vedremo più avanti ma è più tipico delle chitarre dobro quelle che vedete più usare per esempio nel bluegrass country bluegrass americano usano il dobro lo strumento a risuonatore è uno strumento eccezionale perché ha un timbro bellissimo un volume un volume mostruoso rispetto a un ukulele normale anche se devo dire che i martin i se la se la come si dice qua torino se la giocano abbastanza anche loro in termini di volume rispetto agli altri e vedete che sono strumenti che hanno una grande hanno un grande valore ovviamente sono belli da suonare divertenti e hanno definito un altro standard adesso se la signorina mi aiuta passiamo a un altro strumento che è anche stato molto usato il banjo ukulele banjo ukulele che negli anni venti anche grazie a gretch questo è un gretch clarophone ma è una riedizione cinese nuova che come dico va benissimo e costa poco anche grazie a gretch alla gibson alla ludwig che faceva degli banjo ukulele eccezionali è stato anche molto diffuso sempre tornando al discorso del volume della trasportabilità e su tutti george forby che è stato il più grande suonatore di banjo ukulele della storia era un cruner inglese è stato uno strumento che anche diventato uno standard il banjo ukulele poi in queste dimensioni addirittura uno strumento che si può suonare anche come un banjo five string per il fatto della corda rientrante però il bello è suonarlo come quello come il tenor banjo con la quattro corde più tipico della musica del jazz di chicago del jazz di new orleans di queste cose qua con cui si suonano tutte queste figure a triplet che erano tipiche del banjo del banjo del primo jazz concludiamo grazie signorina con una forma che sempre negli anni 20 30 era stata anche molto diffusa adesso un po meno il famoso ukulele pineapple fatto a ananasso che è un ukulele acustico come tutti gli altri questo questo è un ukulele di un ukulele cinese che ma che suona bene costa poco aveva la particolarità appunto di questa forma ad ananas è un suono se l'ho sentito un po più o più importantino un po più sulle medio basse è anche una forma che è stata molto usata in quegli anni adesso come dicevo non se ne vedono più tanti in giro non c'è più troppa gente di peluce ma se ne trovano se questi c'è anche la flea ukulele mi pare che fanno un modello pineapple a avere comunque uno strumento carino bello che vi dà un vezzo di differenza quando suonate magari in una in una moltitudine di ukulele tutti uguali questa lezione era un po più discorsiva vi abbiamo illustrato i modelli i modelli storici dell'ukulele almeno quelli che potevo che potevo farvi vedere vi rimando alle prossime lezioni e il bastardo troppi che vi ringrazia insieme alla honkyton school di torino e ci vediamo prossimamente grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti